Un cordiale e buon pomeriggio e la prima del convegno a una buona quattro anni sul medio a cavale affidati ai gentlemen, su Vasco Jet c'è Enrico Somma, su Varian di Meletro c'è Giuseppe Bumpano Junior, otto in prima, tre in seconda, vai mo' blessed, l'ennesimo Varen guidato dalla Villani, il più gettonato, con calma vai mo' blessed, va via la macchina in velocità, come da copione, la spinge proprio la macchina dall'esterno del ciglio e viene subito via a chiedere strato Vasco Denis Griff, cavali che affrontano la piegata, freeway con leggera spesa per il targato Griff con il giovane esposito, 13 e 6 a partire, scende lungo i birilli ed è nuovo leader, si va, il 4 a tabellone Vasco Jet si elimina, si completa la piegata e anche il quarto iniziale, quarto sostanzioso in 29 e 2, lontano è il favorito vai mo' blessed che insegue poiché ha avuto problemi in partenza. Cavali al completamento dei 600, 600 che se ne vanno in 44 e 6, si viaggia da 1 a 14 e mezzo, viene via Petrella con il suo Witton e prende la via del largo, prende contatto anche Vai Mo' Blessed, ma ha fatto un inseguimento notevole e ancora ha avuto problemi e quindi Vai Mo' ormai out, 1 e 1 il mezzo miglio, cavali di fronte con Witton che impegna a fondo Vasco Danny Griff che si dipende bene, chilometro in 15 e 7, 14 e 8 di frazione, 500 alla meta, i due hanno preso leggero vantaggio a Walla Letty, curva finale, mezza di vantaggio per il Danny Griff affidato al giovane Esposito, 14 e 3 fanno 1 e 30, i tre quarti di miglio, avanti al completamento della curva finale, retta d'arrivo, Vasco sostenuto, Witton ci prova ma riprende netto vantaggio, il giovane Esposito che scuderia in ordine, viene via la grande Vainagrette Font, Paolo che si avvicina, no problem, no stress, kiss kiss kiss, Esposito, facile, Witton e Vainagrette Font, 2 minuti e una virgola, una 15 e 1, veramente pennellato, nonostante un numero 8, viene via deciso, va al comando, argina gli attacchi di Witton e addirittura con un kiss kiss kiss, veramente abbondante, si afferma, non dimentichiamo si, Ruvarendeni, Skylandeni, Vasco Deni Griff, fanno parte di questa bella scuderia, 8, quindi per il primo, 3 per il secondo, 2 per il terzo, totalizzatore 3,18. Linea allo studio.